Ivan Baggi, direttore generale dell'Onnegar, c'è un progetto importante di riqualificazione della vostra area industriale con l'obiettivo di un mantenimento occupazionale. Sì, esatto. Purtroppo questo progetto è iniziato con la sigla di un accordo sindacale, di un accordo di programma circa due anni fa e i tempi burocratici hanno rallentato un po' i procedimenti, nel frattempo il mercato ha avuto una situazione di crisi e di stallo che ha obbligato le aziende, alcune hanno chiuso, alcune come le nostre si sono dovute ridimensionare e specializzare per onorare da una parte il mantenimento della forza occupazionale, dall'altra onorare è quello che erano gli intenti, un accordo di programma già siglato. Fortunatamente in questa fase l'emorragia di fatturato e di mercato si è stabilizzata e siamo in grado di poter dire che il cotonificio Negri è stato scelto dai propri clienti come interlocutore primario per le proprie collezioni e pertanto noi su un downsizing di 130 persone possiamo garantire la continuità aziendale. In questo momento la Regione Lombardia ha stilato un cronoprogramma che noi ci impegniamo a rispettare insieme alle amministrazioni locali che sono parte attiva di questa progettualità e le organizzazioni sindacali si stanno confrontando con noi per dimensionare e trovare gli accordi corretti per poter dare senso al piano industriale e alla continuità su queste numeriche e pertanto incrociamo le dita per andare avanti e direi che dobbiamo anche rimboccarci un po' le maniche. Si chiama su una critica dicendovi che non avete presentato un piano industriale però. Ma questo non è vero. Il piano industriale è stato presentato sia a novembre del 2008 che più tardi. Il problema è vero che da 2008 ad oggi sono successe tantissime cose nel mercato che ci hanno costretto a modificarlo. In realtà il piano industriale è pronto. I dettagli che ci sono stati richiesti in profondità saranno analizzati nell'incontro con le organizzazioni sindacali il giorno 28 in Confindustria e pertanto in quella data saranno soddisfatte tutte le richieste specifiche di approfondimento. I-Tex Campus è sfumato però. Anche quello era un progetto molto ambizioso e importante. Era un progetto ambizioso, importante e anche lungimirante. Purtroppo si innescava in un meccanismo un pochettino più grande che si chiamava Progetto Valle Seriana. È sfumato quello. L'idea dell'I-Tex Campus c'è ancora. Vorremmo rinvigorire. Se ci fossero le risorse e le dovute attenzioni, secondo me è un progetto che non è da seppellire.